Noi sogniamo un posto dove non c'è violenza Sogniamo un posto dove non c'è pregotezza Noi sogniamo un posto dove non c'è mafia Grazie per la visione La scuola è aperta a tutti I capaci e non ritengono anche se privi di mezzi Hanno il diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi